10 cose che manda in tilt il narcisista manipolatore La prima cosa che manda in tilt il narcisista manipolatore è il guardarsi dentro Il narcisista manipolatore ha troppa paura di guardarsi dentro Quindi spingilo a guardarsi dentro, spingilo Dedi ma com'è stata la tua infanzia, bla 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 La seconda cosa che manda in tilt il narcisista è una persona risolta Quindi dimostrati non agganciati a questa persona Dimostra che non cadi nella manipolazione stessa La terza cosa che manda in tilt il narcisista manipolatore è il successo Quindi esibisci il tuo successo, sminuiscilo, fallo sentire una merda La quarta cosa che manda in tilt il narcisista manipolatore è essere ignorato Quindi mi raccomando, ignoralo più non posso Questo è fondamentale La quinta cosa è prenderlo in giro Se tu lo deridi lo fai sentire una merda Lui si sente come un supereroe e tu lo fai sentire una super merda E questo è fondamentale per umiliare un narcisista manipolatore Per rovinare la vita a un narcisista manipolatore Questo è molto importante Un'altra cosa che tu puoi fare è quella di, diciamo, la sesta cosa è mettiti al centro dell'attenzione Quindi rubagli il palcoscenico, rubagli la platea e questo lo mette capo Settima cosa, fargli perdere il controllo Il manipolatore non sopporta se qualcosa non va come aveva pensato, come si era prefissato E questo è un altro colpo basso Ottava cosa che non tollera assolutamente Che lo mandi in tilt e che lo fa soffrire come un animale e lo rifiuto Essere rifiutato è una possibilità che non prende in considerazione Si sente superiore a tutti Quindi inizia a rifiutarlo Inizia a sputarlo come se fosse un moscerino Che ti finisce in bocca Ecco, sputalo fuori nello stesso modo E poi non sopporta, non tollera, lo mandi in tilt il fallire, sentirsi fallito Quindi fallo sentire un fallito Fallo sentire una merda fondamentalmente E poi l'ultima cosa fondamentale che non tollera è l'intimità Quindi, diciamo, cerca un rapporto Cerca di entrare in empatia emotiva con lui Attiva le sue emozioni Vedrai che lo distruggerai Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale Seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube Da cui noi siamo liberati